Meno male che adesso non c'è Berlusconi, lo ripeto ragazzi la mossa di Balotelli di Berlusconi in questo periodo di elezioni è stata proprio una grande paraculata proprio Minchia le capacità imprenditoriali di Berlusconi se fossero messe al servizio del paese ragazzi Jack, intanto il ragazzo ci ha fatto una doppietta eh C'è da dire ragazzi che questo ci avrà una testa di cazzo ma quando gioca non ce n'è, fa paura proprio, fa paura E' come quell'altro che è andato via, l'altro lì, lo zingaro Yalla partiamo